Allora, come ti chiamo? Erika, piacere, salve. Ti è piaciuta la nostra? Molto, è stata molto illuminante, poi peccato l'unica cosa che non si era parlato di più della storia di Gentile Budrioni, però è stata molto divertente, molto illuminante, poi anche sulla figura da stega, la scena della sala del processo è stata molto emozionante, molto tosta. Però è stata... A chi la consiglieresti? La consiglierei a degli amici che, insomma, come me siamo fan comunque del mondo magico tipo Harry Potter, ma anche e soprattutto a persone che hanno voglia di conoscere meglio cosa vuol dire, cosa è stata veramente anche a livello storico la strega, anche se che per secoli è stata bistrattata e non amata, sebbene lei le avesse salvato tantissime vite. Grazie mille. Grazie a voi.